Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine sull'inquietante episodio accaduto nella serata di ieri sulla strada provinciale 141 che collega Barletta a Margherita di Savoia. Vittima il presidente dell'ATSAL SPA, società proprietaria delle saline, Giacomo Dalista Iti. L'auto aziendale sulla quale viaggiava in compagnia del figlio sarebbe stata raggiunta infatti da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da una vettura in corsa. I proiettili avrebbero colpito le ruote della macchina fortunatamente senza ulteriori conseguenze. Ignoti al momento gli autori di quello che potrebbe essere un atto intimidatorio nei confronti dell'imprenditore di origini siciliane. Non escluso che il gesto possa essere legato alle vicende che negli ultimi tempi coinvolgano la più grande salina d'Europa che ha sede a Margherita di Savoia, il cui assetto societario appare quanto mai incerto. Un colosso francese nel campo del sale si sarebbe infatti interessato al controllo dell'azienda, suscitando la preoccupazione di molti laboratori in ansia per il loro futuro occupazionale.